Una panchina gigante, la 149esima presente in Italia e attualmente l'unica in Veneto, arricchisce ulteriormente la proposta turistica del Nevegal. Questa è l'innovativa progettualità portata sul territorio bellunese dalla proloco Pieve Castionese con la collaborazione di Unifarco. Il progetto si chiama Big Bench Community Project, realizzato da Chris Bengel, che è un designer statunitense che vive in Italia, clavesana, insieme alla moglie ha realizzato questo progetto. È un progetto no profit che tende a valorizzare i territori e soprattutto le eccellenze artigianali locali. Noi le abbiamo portate in Nevegal proprio perché ci piaceva partire da lì per poi magari costituire insieme alle altre proloco, insieme agli altri comuni, insieme agli altri luoghi, delle altre panchine come hanno fatto in altri luoghi d'Italia, dove si sono creati proprio dei circuiti di panchine affinché la gente venga in montagna, possa conoscere il territorio. Un'installazione di colore rosso di 3,50 m per due venti di altezza posizionata a casera aerte, capace non solo di attirare la curiosità di grandi e piccini, ma anche dare nuovo slancio al turismo valorizzando l'eccellenza del territorio. Un apposito passaporto legato a questo progetto racchiude i timbri associati ad ogni installazione, consentendo ai fruitori di tenere traccia della memorabile esperienza. Essendoci proprio un turismo legato alle panchine vi è anche la possibilità di collezionare questi timbri. Un'esperienza turistica a contatto con la natura, magari da poter condividere anche con gli altri. Molto di tendenza in questi ultimi anni funzionano molto queste attrazioni che sono molto social, instagrammabili, il classico selfie point, quindi sicuramente questa sarà un'attrazione di questo tipo. Sabato 3 luglio alle ore 11 vi sarà l'inaugurazione ufficiale della panchina gigante in Nevegalla. La Proloquo ha nel suo DNA la promozione del territorio e quindi cerchiamo ogni modo per poterlo fare. Questo ci è sembrato sicuramente un modo molto azzeccato.